Il cantautore di Cellino San Marco si confessa al settimanale Chi.Oggi in tutte le edicole uscirà Chi, il settimanale di gossip di Alfonso Signorini Al suo interno sarà contenuta una lunga intervista ad Albano Carrisi. Quest'ultimo ha spiazzato il giornalista facendo un appello alle due donne delle sua vita, ovvero Romina povera e Loredana Lecciso Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Giolanda, che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo, e io starò con chi ci vuole stare Ha dichiarato il cantautore di Cellino San Marco affermando di essere un uomo di pace L'artista pugliese vorrebbe tanto realizzare un suo grande sogno, festeggiare il Santo Natale insieme alle madre dei suoi sei figli Albano Carrisi passerà il Natale con la madre Giolanda, ma vorrebbe insieme anche Romina e Loredana Ma il desiderio di Albano si realizzerà? Loredana Lecciso a quanto pare per Natale, sarà nella tenuta di Cellino San Marco E Romina pover punto di domanda, punto Giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare Ha affermato il 75enne Albano, che vorrebbe a tutti i costi portare la pace in famiglia Ci riuscirà? Intanto il cantante continua a realizzare dei concerti da solista, e con la pover rimandando il suo ritiro dalle scene adatta da destinarsi Grazie a tutti